allora benvenuti questo è il secondo intervento di questa mattina sul track 1 ora vi presento la speaker che è paola gelatti specialista accessibilità e usabilità presso l'ufficio servizi web dell'università degli studi di milano di cocca insieme a lei interverranno davide milano responsabile del portale di ateneo dell'università degli studi di milano di cocca scusate dei siti dipartimentali e bonaria bianco responsabile settore procedure e sistemi integrati il tema è l'accessibilità come sfida l'esperienza del portale dell'università degli studi di milano di vicocca prima di dare la parola a paola ricordo a tutti che le domande si possono fare sia su youtube che sul canale slack vi invitiamo a farle anche già durante l'intervento io le raccolgo e le farò a paola alla fine del del suo speech a te la parola paola grazie grazie buongiorno a tutti nel nostro intervento vogliamo raccontare la storia dell'accessibilità e del rapporto tra l'università degli studi di milano bicocca e l'accessibilità eh formalmente questo rapporto eh è nato con la messa online del del nuovo portale di ateneo che appunto eh è andato online nel novembre eh del duemiladiciassette e noi parliamo di una rivoluzione non è la rivoluzione di ottobre ma per noi per il nostro ateneo è stata la rivoluzione di novembre perché eh si è scelto di cambiare portale ehm le ragioni sono molteplici e anzitutto una ragione di natura eh tecnologica il vecchio portale era andato online nel duemila e quattro ed era un portale basato su un CMS proprietario ormai in dismissione quindi questo avrebbe comportato una serie di problemi di sicurezza di aggiornamento che non lo rendevano più utilizzabile ma il cambio eh di portale rispondeva anche un'altra necessità che era una necessità di architettura eh il sito andava ristrutturato come si può vedere dalle piccole immagini nella slide eh la struttura aveva una colonna centrale con i contenuti principali e due colonne laterali con i menu di navigazione quindi un'architettura una struttura che non rispondeva alle nuove esigenze di navigazione degli utenti e anche una strutturazione nuova proprio delle informazioni che volevano essere meglio organizzate per far sì che fossero più facilmente trovabili e ricercabili. In questo senso il passaggio è stato ad un nuovo CMS a Drupal, una piattaforma open source che ha proprio il suo punto di forza nell'utilizzo delle tassonomie e delle categorie per organizzare le informazioni. Un'altra necessità è una necessità sì tecnologica ma esterna se vogliamo. Il mondo cambia eh gli utenti accedono a ICT web non più solo da computer fisso ma anche attraverso vari dispositivi eh ad esempio cellulare e mh e tablet per cui il sito doveva necessariamente essere responsive. L'altra ragione è una ragione anche comunicativa sempre legata ai cambiamenti esterni eh la comunicazione si fa sempre più digitale e anche l'Ateneo inizia a sfruttare i canali online. Quindi la comunicazione doveva necessariamente essere coordinata e avere un'immagine unica su portale, materiale cartacei e anche su tutti i vari siti dei vari dipartimenti di Ateneo. Il sito appunto nuovo portale va online nel 2017 ed è frutto di una collaborazione tra l'ufficio dove io lavoro che è l'ufficio web dell'area dei sistemi informativi che è proprio nato in occasione della realizzazione del portale e che si occupa ehm di delle di vari aspetti tecnici infrastrutturali e dei delle risorse web di Ateneo e eh la collaborazione con Cineca che è un consorzio interuniversitario di cui il nostro Ateneo fa parte. Ma prima di raccontare ed entrare nel vivo eh della storia dell'accessibilità e di Unimib mh due parole sul sul mio Ateneo, sul nostro Ateneo. Eh come dice il nome stesso eh la Bicocca ha sede a Milano nel quartiere Bicocca, un quartiere nella perifera della Nord e la nostra università è un'università giovane eh poco più che maggiorenne che si caratterizza fin da subito per una forte vocazione alla multidisciplinarietà e alla ricerca. A oggi ci sono ehm quattordici dipartimenti e mh due scuole, una scuola di scienze, la scuola di economia e statistica, una scuola di dottorato con ventidue corsi e trentuno scuole di specializzazione. Inizialmente ehm le discipline erano per lo più scientifiche come biotecnologia e medicina, con l'andare del tempo si sono allargate anche all'area umanistica come scienze della formazione, sociologia, psicologia. Perché questo aspetto importante? È importante perché progettare un sito per una varietà di contenuti così ampia ha anche delle implicazioni sulle scelte eh sottostanti in termini di albiratura, strutturazione delle informazioni e anche richieste diverse a seconda del dipartimento della scuola. In generale l'Ateneo è un è un grande Ateneo eh che si è staccato dalla dalla statale di Milano e ha oggi circa trentaquattromila studenti eh e novecentocinquanta tra docenti e ricercatori strutturati e poi ottocento dipendenti tra tecnici amministrativi di cui faccio parte anche io e il mio gruppo eh che sono appunto ehm la la retroguardia se vogliamo dire le persone che fanno eh andare avanti la macchina universitaria. Ma mh in generale no? Anche parlando del pubblico eh di Unimib. Questo è il pubblico di studenti che poi va online e va sul sito. Ehm qui abbiamo riportato dei dati ehm macro relativi all'ultimo anno dove si vede come in un anno ci sono circa eh dodici milioni di utenti unici e gli utenti navigano quasi eh una pagina per una durata media di un minuto. Eh ovviamente poi ci sono dei picchi eh come ad esempio si può vedere durante il mese di settembre che solitamente sono i periodi più forti per l'università con le metropolazioni, gli esiti eh dei test di ingresso. Eh questa slide è importante perché ci dice la modalità di navigazione. Abbiamo ormai un cinquanta per cento tra accesso da computer fisso e accesso invece da device. Quindi la scelta di un sito responsive. E poi mh qui riguarda i browser e anche qui si vede come appunto Chrome è principale eh Safari però Android e iOS ci dicono mobile è importante. Ma veniamo alla nostra storia con l'accessibilità. Il sito va online nel novembre del duemila e diciassette. Nel dicembre iniziamo a fare un primo bilancio di fine anno. Questo bilancio è legato al report che il nostro partner di sviluppo del portale ci rilascia che è un primo report che ci racconta di problemi tecnici e anche di problemi mh di natura eh redazionale legati soprattutto all'importazione automatica dei contenuti dal vecchio portale a quello nuovo. Ed è qui che iniziamo a renderci conto eh che l'accessibilità non è un qualcosa acquisito una volta per tutte ma che muta e necessita un continuo monitoraggio con la vita del sito. Ma capiamo anche che eh c'è una necessità di approfondire e di capire quali siano effettivamente i problemi riscontrati dalle persone con disabilità. Quindi eh vogliamo utilizzare degli hardware e dei software specifici dedicati e testare il sito anche con persone con disabilità. Per questa ragione ci rivolgiamo all'istituto dei cecchi di Milano che ci avrebbe dovuto ospitare eh per per queste giornate e lo scegliamo perché ehm eh tra gli enti riconosciuti da Agide per testare l'accessibilità e rilasciare il certificato. Quindi per due motivi. Il motivo se vogliamo formale, normativo, legale, l'università come pubblica amministrazione ha per obbligo di legge, riferimento alla legge stanca, di avere un sito accessibile e anche di eh certificare e verificare questa accessibilità. Ma al di là della forma e della norma c'è un motivo più sostanziale ovvero quello di avere un portale che sia effettivamente e nel tempo usabile e accessibile da tutti gli utenti di Ateneo. Qui eh entriamo un po' nel vivo eh dei lavori con l'istituto dei cecchi. Eh siamo all'inizio del duemiladiciotto e mh il primo report ci identifica tutta una serie di problemi a partire dalle linee guida VCAG all'epoca erano le due punto zero quindi eh i quattro principi ehm percepibile eh utilizzabile e comprensibile e navigabile con cui sono suddivisi tutte le varie i vari tipi di problematiche. Ne abbiamo riportati alcuni esempi eh ad esempio questo che riguarda la navigabilità del sito. Partiamo proprio dall'home page eh del portale di Ateneo e vediamo che eh gli slider, le immagini che compongono il carosello introduttivo ehm non sono navigabili l'utente da tastiera non riesce andare né avanti né indietro. Il problema viene risolto inserendo lo scopo del collegamento nei bottoni che consentono di andare a a destra o sinistra quindi inserendo il title successivo precedente a seconda che eh ci si voglia muovere appunto a destra o a sinistra. Un altro problema eh riguarda la la distinguibilità in particolare eh l'uso del colore. Eh in questo caso siamo il principio è quello eh del percepibile. Eh i collegamenti per testuali inizialmente erano solo in rosso ma eh come sappiamo non si può fare affidamento ad un solo canale quindi decidiamo di intervenire a livello di CSS pertanto i collegamenti per testuali sono in rosso, in bold e con il mouse over eh abbiamo anche l'underline. Un ultimo problema ad esempio ehm che abbiamo appunto risolto riguarda non tanto la parte visibile agli utenti quanto eh il back end eh del del CMS ehm le pagine in automatico erano strutturate con un H1 un H2 eh tuttavia mancava poi all'interno della struttura della pagina la possibilità di inserire un titolo uno, un titolo tre, un titolo quattro, un titolo cinque e quindi eh di dare una struttura appunto alla pagina e permettere alle persone che accedono e leggono attraverso appunto screen reader di individuare la le sezioni e quindi poter scorrere rapidamente e comprendere pienamente il contenuto. Abbiamo appunto inserito nell'editor questa possibilità così da permettere ai redattori di ehm strutturare e dare forma accessibile alle pagine. Quindi eh cosa succede? Succede che finalmente ultimate tutte le correzioni eh otteniamo il certificato. Questo certificato lo abbiamo nel luglio del duemiladiciotto. Tuttavia ehm proprio o meglio non tuttavia proprio grazie al lavoro con l'istituto dei ciechi eh capiamo che l'accessibilità eh non è un qualcosa che è dato una volta per tutte che è un obiettivo acquisito con il certificato in mano ma è piuttosto un processo in continua evoluzione che cambia e prende forma proprio col vivere del sito che richiede un costante monitoraggio. Se inizialmente mh questo problema, questo aspetto era stato affrontato a partire dal nostro ufficio proprio perché era considerato solo un aspetto legato a aspetti tecnici e di sviluppo successivamente capiamo che eh lo spettro è molto più ampio e può riguardare aspetti redazionali ma anche aspetti linguistici perché anche il contenuto deve essere inclusivo dal punto di vista delle scelte linguistiche. Quindi per l'Ateneo eh l'accessibilità diventa un'operazione complessa che riguarda tutta la comunità di Ateneo e deve coinvolgere non solo l'ufficio web eh agli aspetti più tecnici ma richiede la partecipazione di tutto di tutta la comunità dell'università. Proprio per per iniziare a procedere anche in autonomia eh terminata appunto l'attività con l'istituto dei ciechi anzi un mese prima iniziamo a dotarci eh di strumenti interi che ci consentano di monitorare eh il portale ehm durante tutta tutta l'attività. In particolare ehm sottoscriviamo un contratto con Siteimprove e eh che è una piattaforma ehm che ci consente di monitorare tutte le pagine del portale e di avere un report settimanale. Eh a partire da questo report noi eh possiamo individuare eh la tipologia di errori quindi ehm proprio il tipo in base ai principi alle linee guida VCAG in questo caso due punto uno perché ormai siamo nel duemila venti e il livello di errore se A o doppia A. Da lì poi eh andiamo ad attribuire la risoluzione dell'errore se quindi necessario l'intervento degli sviluppatori il nostro intervento oppure se dobbiamo contattare il redattore che ha compilato la pagina. Eh qui appunto eh abbiamo come eh prima abbiamo esemplificato alcuni errori eh che abbiamo rilevato grazie all'istituto dei cecchi qui ne troviamo altri eh che siamo andati poi a correggere nel tempo grazie a Siteimprove. Ehm ad esempio eh qui ritorniamo sempre nel nell'adattabilità e l'uso di HTML eh in proprio che appunto è stato mh inserito per formattare il contenuto. A sinistra troviamo una tabella benché appunto sconsigliamo l'inserimento di tabelle talvolta eh gli uffici decidono di strutturare il contenuto attraverso le tabelle. In questo caso eh la formatazione è stata resa con l'HTML quindi cosa andremo a fare in collaborazione con Cineca? Andremo a spostare lo stile su un foglio dedicato quindi sul CSS e rendere il contenuto accessibile. Oltre a questo sarà poi chiesto un intervento ai redattori per andare a bonificare i contenuti che erano stati creati in precedenza. Un altro esempio eh che invece è stato risolto proprio dai redattori stessi è eh sempre l'utilizzo dell'HTML per formattare eh il contenuto. Siteimprove ce l'ha segnalato ovviamente è importante l'uso dello strumento perché noi non possiamo andare a controllare tutte le pagine e quindi abbiamo segnalato al redattore la possibilità di utilizzare lo stile citazione e quindi di creare una pagina accessibile. Un altro esempio riguarda eh i form. Eh inizialmente eh si era scelto di utilizzare il modulo di Drupal del CMS eh poi ci siamo resi conto che c'erano problemi eh legati all'identificazione delle etichette, alla segnalazione, alla prevenzione degli errori e alla correzione degli errori. E quindi eh abbiamo spostato la scelta sui moduli di Google eh che sono eh nativamente accessibili e che sono anche più semplici per la redazione da creare e da gestire. Ultimo esempio eh riguarda eh il contrasto colore. Eh in questo caso eh un elemento attivo selezionato eh dall'utente nella sua interfaccia non ha un contrasto colore sufficiente. Siamo sull'anno accademico 2019-2020. Dovrebbe essere 4.5 invece è 4.3. Quindi anche qui stiamo scegliendo come intervenire. O si aumenta eh si scurisce il punto di rosso, si cambia il colore in nero oppure si ingrandisce il testo. Sono scelte che vanno condivise che però hanno un impatto importante su tutta la navigabilità del sito. Quindi approfitto anche per introdurre il fatto che oltre a setting proof utilizziamo anche altri strumenti. In questo caso si tratta dello strumento di accessibilità di Firefox. Talvolta utilizziamo anche Lighthouse oppure anche il contrast color analyzer. Quindi è un lavoro eh ampio che si avvale appunto di una molteplicità di controlli più o meno eh puntuali eh sulla singola pagina o aggregati. Quindi eh eh sì l'accessibilità ma cosa significa l'accessibilità per una pubblica amministrazione e in particolare per un'università? Eh l'università è una pubblica amministrazione ma non può essere paragonata a un altro ente come ad esempio un piccolo comune o a un ospedale. Ci sono degli aspetti che non sono affatto da sottovalutare e questi aspetti sono di natura quantitativa organizzativa culturale e anche formativa. In che senso quantitativa? Eh il portale è un portale eh molto ampio ovvero eh online ogni giorno mediamente vanno o vengono aggiornate circa un centinaio di pagine circa una cinquantina di documenti. Quindi il lavoro di monitoraggio è veramente impegnativo e rischierebbe se non ben strutturato di bloccare l'ufficio e tutte le altre attività che vengono svolte. C'è un aspetto anche organizzativo eh all'interno dell'Ateneo c'è una redazione centrale che fa parte dell'ufficio comunicazione che ha quindi delle competenze specifiche in ambito di comunicazione e di progetti online ma al sito accedono anche altre persone che appartengono ad altri uffici che hanno altri compiti ma lavorano sul sito e ad esempio eh non so l'area della formazione che pubblica i regolamenti didattici eh l'offerta formativa oppure l'area del personale che pubblica tutti i bandi. Quindi un gruppo eterogeneo con competenze eterogenee ma al di là di questi aspetti pratici uno degli aspetti più importanti mh e sottostante è quello culturale. Diventa veramente importante per noi sensibilizzare tutti sul tema dell'accessibilità. Ecco noi vorremmo che l'accessibilità online fosse eh la stessa cosa che una rampa di scale per permettere a una persona eh di accedere ad un edificio. Oggi non ci si stupisce eh se c'è una rampa anzi alle volte ci si indigna. Ecco noi vorremmo la stessa cosa per l'online. In particolare quando facciamo mh formazione ehm l'esempio che utilizziamo è quello dei sottotitoli eh sottotitoli video eh una persona magari si può avere eh una disabilità mh permanente ma può trovarsi anche in una disabilità situazionale. Sono sulla metro, voglio ascoltare un video, non ho le cuffie, i sottotitoli sono l'unico mezzo per accedere al contenuto. Oppure sono uno studente straniero, non padroneggio bene l'italiano, devo capire il video, i sottotitoli mi aiutano. È la stessa cosa che facciamo noi con i sottotitoli i nelle varie piattaforme di streaming che in queste in queste giornate abbiamo utilizzato tutti. Però accanto all'aspetto culturale l'altro aspetto importantissimo è quello formativo. Eh dobbiamo anche eh non solo spiegare cos'è l'accessibilità ma dare ai nostri colleghi le competenze necessarie per produrre dei contenuti accessibili. In questo senso stiamo eh progettando appunto una formazione che inizialmente doveva essere suddivisa tra in presenza dal vivo e online ma che adesso si sposterà solo sulla piattaforma e learning e la formazione è una degli obiettivi che rientra eh tra gli obiettivi di accessibilità che l'università ogni anno pubblica proprio sul sito di Agid eh in quanto pubblica amministrazione. Quindi cosa ci aspetta? Anzitutto a breve termine ehm vi ricordiamo che ehm se volete potete farci delle domande su YouTube e noi risponderemo più che volentieri. Eh ma tornando a noi eh i nuovi traguardi eh dell'università sono legati senz'altro alle nuove linee guida di Agid eh che sono state pubblicate all'inizio del di gennaio del duemilaventi. Quindi eh l'impegno da parte dell'università di pubblicare eh per ciascun sito una dichiarazione di accessibilità. Eh può sembrare una cosa banale ma non lo è affatto. Eh basta guardare i numeri eh dei siti che eh l'Ateneo deve affrontare. Abbiamo diciassette siti eh sviluppati da Cine che sono i quattordici dipartimentali e i due della scuola di scienze di economia che hanno ehm un template, un layout uniforme e questo ci permette di gestire con relativa facilità il lavoro perché una volta individuato un errore o una problematica la risoluzione si propaga a cascata su tutti gli ambienti. Più difficile eh è invece mh il il mondo WordPress. Eh il nostro settore sviluppa anche internamente dei siti legati a progetti di ricerca, all'attività dei docenti, dei ricercatori e in questo caso i temi sono mh più eterogenei e molto spesso rispondono a esigenze diverse e ehm hanno che fare con persone eh che non appartengono all'Ateneo magari sono frutto di una partnership con altri enti, con altre università oppure legati all'Unione Europea. Quindi anche in questo caso abbiamo deciso di sfruttare la piattaforma Siteimprove di poi suddividere eh le problematiche in base al tema eh scelto dal sito e poi andare a lavorare per gruppi omogenei. Un altro lavoro che abbiamo iniziato eh proprio a breve eh recentemente legato a questo periodo eh di chiusura per l'emergenza covid è quella dei sottotitoli dei video. Eh la collaborazione con i ragazzi e le ragazze dell'ufficio per persone con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento e li abbiamo coinvolti proprio per andare a lavorare sul canale YouTube e a partire dei sottotitoli che sono generati in automatico dal canale trasformarli e renderli, correggerli e renderli effettivamente mh comprensibili. Ma l'attività del dell'Ateneo riguarda anche l'accessibilità di tutti gli applicativi e gestionali che vengono usati nella vita quotidiana di un Ateneo. Sono veramente molti, basta pensare ai gestionali utilizzati per gli stipendi, per le carriere, eh per i protocolli, per gli albi oppure per la gestione degli studenti oppure ancora per l'area della ricerca. Un esempio di un'attività recente che si è conclusa è la personalizzazione del software iNitting Room che consente di acquisire i dati eh delle riunioni degli organi collegiali di Ateneo e poi andare a produrre un verbale che nativamente è accessibile. Quindi da un lato una semplificazione del lavoro delle segreterie ma dall'altro un'accessibilità che potremmo definire by design e questo mi permette di ragganciarmi all'ultima parola chiave, alla penultima scusate, che è quella della progettazione. L'accessibilità non è un qualcosa da verificare a posteriori, l'accessibilità è invece ehm un requisito che deve entrare all'inizio del progetto e deve accompagnare tutto il progetto ed è quello che stiamo facendo in questi giorni per lo sviluppo dell'app per gli studenti di Ateneo. Quindi non è più un dopo ma un prima di cui non si può fare a meno. E torniamo poi appunto alla formazione perché eh appunto produrre eh dei contenuti richiede anche delle competenze che tutti eh i nostri colleghi di Ateneo devono avere. Quindi in estrema sintesi per noi accessibilità è una parola che ha tre C e queste tre C non sono un refuso ma sono la C di consapevolezza e quindi capire che l'accessibilità non è eh un dato acquisito una volta per sempre ma che deve essere verificata con continuità nel tempo di pari passo con la vita di un sito ed è un'attività che deve coinvolgere tutta la comunità di Ateneo perché proprio in quanto università la produzione di contenuti online riguarda tantissime persone. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione ehm siamo qui per rispondere alle vostre domande oppure se volete anche scriverci e ringrazio anche i miei colleghi Davide Milano e Bonaria Bianco eh che mi supportano durante tutta l'attività quotidiana e mi hanno inserito nel mondo dell'accessibilità. Intanto grazie Paola aspettiamo che magari qualcuno ponga qualche domanda ti intanto ti leggo un commento di Alessandro su YouTube che dice che siete bravissimi a Milano Bicocca avete fatto un ottimo lavoro. Io aspettando qualche domanda te ne pongo io un paio ehm parlavi eh del form per esempio che vi siete accorti eh che c'erano degli errori avete fatto dei test specifici per accorgerti di questi errori come l'avete no eh sono stati individuati da Siteimprove ok quindi sono proprio rilevati e il poi eh il modulo aveva varia la gestione dei moduli era complessa anche per quanto riguarda la raccolta dati e quindi visto che tra le competenze dell'ufficio web c'è proprio anche ehm la Google Suite eh è diventato semplice quasi una scelta ehm naturale passare appunto al ai moduli di di Google. Anche perché un altro aspetto importante è che l'accessibilità non riguarda solo il portale ma tutto il percorso che l'utente fa a partire dal portale e quindi eh una delle scelte è l'accessibilità by design ed è in questo caso i forum di Google la garantiscono. Ok ok grazie. Ehm questa è un'altra domanda che è già emerso il tema della difficoltà di ehm diffondere una cultura dell'accessibilità in ecosistemi complessi dove molte persone devono contribuire a gestire e creare contenuti. Hai dei suggerimenti per le persone che si trovano in situazioni simile alla vostra e trovano questa comunque difficoltà a eh diffondere la cultura dell'accessibilità? Beh noi eh la nostra esperienza eh semplicemente eh semplicemente magari le persone non non se ne rendono conto perché non lo sanno eh mentre un ostacolo fisico che non permette ad una mamma con una carrozzina o una persona che è su una sigela hotel è evidente no proprio anche fisicamente chi non usa uno screen reader non non percepisce la difficoltà di navigare un sito con un altro strumento quindi eh è proprio raccontare queste storie ma anche i numeri eh le persone con disabilità non sono poi così poche quindi se da un lato può essere eh vabbè ma è un problema che riguarda pochi no non è vero e in secondo luogo un sito accessibile è un sito migliore per tutti quindi i benefici si estendono per cui per noi la nostra esperienza è veramente quello di avvicinare il tema eh alle persone perché forse è semplicemente una non conoscenza ecco assolutamente inizio a leggerti qualche domanda che sta arrivando su YouTube allora Lara chiede se non si può partire da accessibilità da zero ma bisogna correggere l'esistente come si può agire? Ad esempio noi è capitato perché è la storia del nostro portale eh appunto è quello di monitorare rilevare gli errori e capire anche il peso dell'errore eh alcuni in alcuni casi ci sono degli errori che eh non ha senso correggere proprio per l'onere che eh implica la correzione quindi si parte dall'errore più grave che ha un impatto maggiore sul sito e di lì a cascata si vanno poi a a sanificare eh sì il ci voglio ci vogliono del ci vuole del tempo ci vogliono delle risorse perché comunque poi dipende dal tipo di errore però per correggere un errore alle volte è necessario andare a modificare appunto un javascript e quindi richiede un nuovo sviluppo è proprio per quello che eh bisogna partire dall'inizio come diceva l'intervento anche precedente al mio eh l'accessibilità deve essere un prerequisito per il passato ahimesse si deve correggere forse bisogna partire da quelli più grossi che hanno un impatto maggiore per poi andare in scala e correggere quelli minori. Ok. Il un'altra domanda eh che la pone Francesco il merito è Google Form i dati inseriti a che appartengono a Google? Beh quella è la policy di Ateneo la policy privacy io non mi occupo dello specifico di questo però sono dati dell'Ateneo poi dipende dal form no? Comunque è dichiarato nella policy privacy quello è un aspetto appunto legato al GDPR è un'altra cosa. Certo certo io ehm intanto non so se anche i tuoi colleghi vogliono intervenire per integrare qualcosa ovviamente sono sono benvenuti anche riguardo ai siti WordPress di cui avevi fatto accenno precedentemente non so se avete qualcosa da aggiungere dimmi tu. Altrimenti ti ti leggo un altro commento allora che appena arrivato di Barbara eh sono sono state prodotte delle pubblicazioni scientifiche sul processo di creazione e gestione del vostro portale sarebbe utile divulgare il percorso anche solo per sensibilizzare gli altri Atenei? no 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 non ci sono pubblicazioni scientifiche questo è il primo intervento che facciamo anche perché eh comunque è una è un'attività che appunto non c'è da da molto tempo poi appunto il portale è andato là nel duemiladiciassette il percorso è stato di tre anni e è ancora tutto in divenire. Ok eh lo cogliamo come suggerimento eh dice la vostra collega eh eh buonaria esatto. Un'altra domanda sempre di Lara eh chiede ci sono degli esempi di siti ben progettati come dal punto di vista dell'accessibilità oltre al vostro di dell'Università degli Studi di Milano di Cocca? Hai degli esempi? Allora un esempio eh specifico mh non vi potrei dire in generale che i siti che noi andiamo a guardare sempre sono quelli delle università americane eh o canadesi perché lì l'accessibilità eh se tu non la rispetti significa una multa e a differenza del contesto italiano e credo europeo ehm l'accessibilità è un obbligo di legge anche per i privati. eh quindi solitamente noi andiamo a guardare eh quei siti faccio anche questo esempio che è sempre interessante ehm credo Harvard proprio è una di quelle università che recentemente ha preso una multa perché i sotto i video non erano sottotitolati quindi non erano accessibili. Ecco quindi noi andiamo sempre a guardare a guardare quei siti ehm quindi Harvard, Stanford, Yale e poi ecco un'altra cosa che facciamo ehm è andare a vedere il cms che utilizzano per cui eh se il sito di Yale usa Drupal a noi è più utile perché anche noi stiamo usando Drupal e quindi possiamo adottare delle soluzioni simili. Per cui noi andiamo sempre eh a guardare con un occhio all'estero ecco. Siamo un po' esterofili. giusto, bisogna ispirarsi ai più bravi sicuramente. Un'altra domanda di Simone eh che si complimenta per il vostro lavoro innanzitutto e chiede state valutando anche l'accessibilità per studenti con DSA? Sì, 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 proprio noi collaboriamo con l'ufficio eh DSA e il e tra l'altro eh vogliamo anche ehm però le tempistiche proprio per la complessità dell'attività saranno più lunghe eh fare internamente eh creare degli user group dove andiamo anche a coinvolgere eh persone che hanno eh disturbi specifici dell'apprendimento quindi eh degli user group che siano effettivamente rappresentativi eh del vaccino di eh del vaccino di utenza del sito. Ok. Grazie. Ora ehm sempre complimenti per la presentazione, ti ringraziano. Eh una domanda che non so se sei in grado di se puoi rispondere è quanto è costato il portale? Chiede Marco. È un po' è un po' complicato credo. Magari appunto i miei colleghi possono rispondere su su questa cosa. Se volete loro si possono collegare o se volete commentare li leggo io anche se come come preferite. Non so Paola come come. Sì se posso sì sono Buonaria Bianco. Ehm possiamo naturalmente rispondere volentieri in privato ma diciamo non perché ci siano particolari segreti ma perché ehm diciamo i costi sono relativi a uno studio di implementazione ehm diciamo un basato su una serie di richieste che erano quelle iniziali che poi si sono evolute nel tempo quindi diciamo fare una schema così secca e dare una cifra secca e sarebbe poco significativo insomma dipende da da cosa da cosa significa esattamente quanto costa un portale non c'è proprio una domanda secca una risposta secca su questo. Certo certo. Davide tu collega Paola tu collega Davide vuoi aggiungere qualcosa e vedo che si è collegato? Beh no più che altro vabbè oltre al definire di preciso il costo del portale che comunque è immerso in un progetto particolarmente ampio con i nostri con i nostri collaboratori quindi è anche difficile riuscire a estrapolare il dato specifico. Più che altro no mi mi rifaceva la domanda quella relativa a che cosa fare nel momento in cui non si può partire dall'accessibilità da zero. Un ambito su cui dobbiamo lavorare e che è uno dei prossimi dei prossimi punti che vogliamo cercare di portare a casa è la gestione dei pdf di tutta la documentazione della grande mole di documenti che viene generata da una pubblica amministrazione e in particolar modo da un'università con tutto questo tutto quello che questo comporta. Come abbiamo detto qui le 3C rientrano in particolar modo perché si tratta di un lavoro talmente ampio che non può essere focalizzato quindi l'obiettivo dovrebbe essere almeno per quanto stiamo cercando di fare di cominciare a sensibilizzare le persone che stanno effettivamente producendo questi contenuti per fare in modo che progressivamente tutto l'ambiente di documentazione che viene proposta agli studenti diventi progressivamente accessibile. Agire con la bacchetta magica non è ragionevolmente possibile ma non abbiamo una bacchetta magica ancora. Grazie mille Davide per il tuo contributo. Per ora vedo che non ci sono altre domande se non complimenti comunque da tantissime persone anche per Barbara dice soprattutto grazie perché si nota che il vostro lavoro è normale e non speciale quindi è doppiamente apprezzato. Io per ora di curiosità ce ne sarebbero molte ovviamente perché il tema è complesso vedo ora un altro commento di Lara che dice fantastico comunque per la vision sempre commenti positivi. Solo l'ultima una piccola curiosità prima Paola parlava delle dell'università americane e canadesi che sono un buon esempio. Loro hanno prodotto della documentazione scientifica da questo punto di vista per gli atenei? Allora io ho notato che più che produzione scientifica hanno delle pagine dedicate all'accessibilità dove mettono delle linee guida. Cioè loro è come se fosse una specie di intranet che però è pubblica e per cui dicono come hanno affrontato determinate linee guida, come fare per produrre, per fare i sottotitoli su YouTube. Quindi di documentazione scientifica vera o propria io non ne ho mai trovata. Ci sono invece però dei form di discussione che si ritrovano proprio a partire dai siti delle università americane. Adesso non mi ricordo più il nome ma se appunto lo posso scrivere nel gruppo Slack dove si dibatte molto delle scelte, dei problemi legati all'accessibilità, dei software da utilizzare, delle soluzioni, ad esempio io mi appoggio, l'utilizzo, la correzione dei PDF è abbastanza vincolante ad Adobe e quindi noi stiamo valutando che strumento utilizzare per correggere le posteriori e è un problema che non è che siamo arrivati noi per primi a porci ma accedere a questi forum permette di capire, ok, l'unica soluzione è Adobe, no, ci sono altri strumenti, cosa ti consentono di fare. Quindi documentazione scientifica francamente non è mai trovata più che altro di tante linee guida applicative, pratiche da parte dell'università. Bene, che sono comunque molto apprezzate e utili assolutamente. Assolutamente. E il panorama italiano a livello di Atenei, puoi dare un giudizio di come siamo messi in Italia da questo punto di vista? Beh, dipende dalla grandezza dell'Ateneo. Ok. Ci sono secondo me dei siti che sono fatti molto molto bene e dove io navigo spesso e volentieri e che porto sempre come esempio a noia e per cui penso che no, penso che alcune università stiano lavorando bene e poi c'è anche da dire che comunque noi, ecco questa cosa importante, noi stiamo lavorando a fattor comune con Cineca, che è un consorzio interuniversitario, quindi sviluppa non solo il sito per la Bicocca, ma anche altri siti. E il nostro sforzo è anche quello di andare a chiedere che tutti gli applicativi siano poi accessibili e quindi uno sforzo collettivo che va poi a beneficio di altre università, perché ad esempio lo strumento che permette di gestire le segreterie studenti non viene utilizzato solo dalla Bicocca, ma viene utilizzato anche da tantissime altre università e quindi a cascata c'è il beneficio per tutti. Assolutamente. Perfetto. Io non vedo altre domande su YouTube, quindi siamo direi comunque puntuali, due minuti in anticipo, ma ci sta. Paola, ti ringrazio, è stato super interessante il tuo e il vostro intervento. Grazie, grazie da parte di tutti. Buona giornata, ciao. A tre, ciao. A presto. 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 A presto.